ciao a tutti sono spiega la montata e benvenuto in un nuovo video qui sul mio canale come verrete oggi non siamo su techcraft oggi non esce la puntata di techcraft come era uscita ieri quindi mi scuserete ma ho avuto dei problemi scusate con i driver nvidia per cui ho dovuto reinstallarli e quindi non ho avuto il tempo e non ho tuttora il tempo per registrare techcraft perciò probabilmente la nuova puntata uscirà domani ma se non esce la nuova puntata di techcraft uscirà la nuova puntata della nuova serie di qui non vi spoiler niente né il contenuto né il nome tanto meno perché sennò vi direi tutto praticamente e niente vi dico subito che non c'entra cioè che tende a fare varietà tenderà a fare varietà sul mio canale perché ho notato che stava facendo video soltanto su minecraft e fare video soltanto su minecraft rendono un canale praticamente monotono ma proprio monotono e dir poco e quindi niente ho deciso di fare altri video oltre techcraft che continuerà a esserci naturalmente faremo tipo un giorno sì un giorno no oppure chesso quattro giorni techcraft e due e dura la nuova serie poi e non escludo quello che vi sto per dire potrei anche decidere di far uscire video anche di domenica ma per adesso non è detto niente ora sento un ragno che sta avvicinando quindi io vi saluto io sono spiegaramontotto se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi e condividete mi trovate sempre sul twitter google plus sul mio sito spiegaramontotto.x10.mx e anche su facebook digitando facebook.com slash spiegaramontotto ufficial io sono spiegaramontotto ciao a tutti ciao brutto bastardo che non sei l'altro mi abbia robinato il video devi morire devi morire deve morire cioccolato ma sì ok passiamo alle maniere forti no senti non volevo tropparti morì ora mi piace po Dharma Grazie.